Se state avendo problemi riguardo a God of War Ragnarok e che non sentite proprio le voci dei personaggi quindi l'audio non funziona del tutto, è possibile prima risolvere il problema andando su impostazioni audio qua sopra, tasto destro su icona, apri mixer volume. In questo caso scende fino a giù fino a trovare God of War Ragnarok. Se in questo caso il gioco è attivo ma non ha nessun dispositivo di output, come puoi vedere il dispositivo di output predefinito che sarebbe, sono le casse audio oppure le cuffie predefinito inserisci così il dispositivo audio tuo. Se in questo caso qua sopra non c'è nessun dispositivo audio vuol dire che hai un problema quindi un difetto sul tuo computer. Quindi in questo caso esco un attimo da God of War Ragnarok. Quindi vado direttamente su risoluzioni, problemi, quindi impostazioni, soluzioni, problemi, altri strumenti e vado su audio e faccio esegui. Quindi può essere anche che il tuo problema era il mixer volume quindi potevi direttamente configurarlo là sopra. Se non dovesse funzionare proviamo direttamente a fare una richiesta di supporto direttamente sul nostro computer. Quindi Quindi abbiamo il tuo consenso di eseguire la diagnostica automatica per provare a risolvere il tuo problema audio. Facciamo sì. In questo caso si deve anche sentire un bip se l'audio, il nostro dispositivo funziona. Qui ci dice anche controlla l'output dell'alto parlante, esegui lo strumento di risoluzione problemi. Ovviamente se la diagnosi ci mette parecchio e non esce niente fuori dopo un paio di minuti ti consiglio di chiudere quell'applicazione perché poi a questo punto ti dirà che non ha risolto nessun problema quindi tasto destro su start e vai su gestione dispositivi. Andiamo sui nostri dispositivi audio, input e output audio ed eccoli qua. Ovviamente questo è l'altoparlante che uso su God of War Hagnarok. Se in questo caso uno di questi output ha un triangolino giallo vuol dire che è danneggiato, tasto destro sopra, fai disabilita il dispositivo e riabilita. Oppure aggiorni al driver, cerchi il driver nel computer e scegli da un link di driver disponibile. Mettiamo così un dispositivo software generico e facciamo avanti. e lo installiamo. Una volta fatto devi riavviare il tuo computer. Stessa cosa sui dispositivi software questo qua e basta. Se no puoi semplicemente scollegare il cavo dal tuo computer, riconnettere e riavviare il sistema. Provare di nuovo a mettere su apri mixer volume, vai su God of War Hagnarok e inserisci i dispositivi output. Oppure stessa cosa su segnali acustici sistema, prova a inserire anche qua sopra su dispositivi output e metti il tuo dispositivo. Stessa cosa anche qua su sistema, audio e mixer volume in generale. Quindi input per microfono e questo qua invece altoparlante. Non c'è più. Quindi, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.